Ed un saluto ai nostri telespettatori da Barbara. Finalmente siamo decollati, siamo in pista con 4 chiacchiere con. L'appuntamento è per ogni venerdì sera alle 22.30, in replica il sabato alle 12.30 e la domenica alle ore 20 su Lombardia TV, canale 99 del Digitale Terrestre. E allora io vi aspetto a 4 chiacchiere con. Non mancate! La tua canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria.